Ciao ragazze, tipo sono mille milioni di volte che tento questo video, mi tento di fare questa intro, ma questa volta ho lavato la spacca, vi giuro ho tentato 10.000 location ma non riuscivo a capire come posizionare la telecamera, ho provato col tre piedi, ho provato con la pila di libri sotto, niente, ma voi mi spiegate come fanno le persone a fare i video dall'alto? Che tipo di telecamera utilizzano? O di cavalletto in questo caso? Se avete qualche idea, per favore scrivetemela qui sotto perché veramente non so come fare, io adesso sto tenendo la telecamera in mano e mi serviva anche una location un po' luminosa, non la trovavo in casa, mi sono messa in camera di mio figlio. Questo per dire Vabbè, gli ho rubato il suo spazio, comunque lui è adesso a scuola e mi perdonerete tipo il plaid infantile ma è un video così tanto per fare due chiacchiere e sfogliare la rivista assieme. Come sapete io non faccio tagli particolari o montaggi di qualità ma sono così due chiacchiere tra amiche ecco. E visto che mi è arrivata dalla Ennis mi hanno spedito la Just Cross Stitch, la rivista Just Cross Stitch, volevo appunto parlarvene. È una rivista americana bimestrale totalmente dedicata al punto croce. E ho visto che in Italia su YouTube non se ne parla, per cui ho detto vabbè dai inizio io, faccio un video, visto che è una rivista con cui collaboro da due anni a questa parte, volevo presentarvela anche perché so che tante di voi, quasi tutte, anzi siete amiche di Ricamo su Facebook. E sono sicura che avete anche un pochino di curiosità per sapere cosa andrete a trovare nella rivista in caso voi la voleste acquistare o su Casa Cenina o richiederla al vostro edicolante di fiducia. Bando alle ciance, iniziamo a ciccerare. Ah, tra parentesi, anch'io non l'ho guardata la rivista, ho dato una sfogliata velocissima per vedere dove fosse il mio modello, perché non volevo giocarmi l'effetto sorpresa. Ecco, per cui anch'io la vedrò per la prima volta per bene con voi. Comunque, iniziamo con questo meraviglioso coniglietto col suo cucciolino. Cari beh, sembrano Alberto e Voodoo quando è arrivato a casa. Guardate, il bambino con la faccia più felice del mondo e il coniglio. Caccio, fa per campasca, cioè scagliatemi sta carota e mollatemi lì il cucciolo. Ecco qua, i contenuti. Ho notato che si divide in sei contenuti dedicati appunto alla festività natalizia. E c'è il Natale classico, troverete il Natale country, il winter wonderland che è sicuramente quello dedicato ai pattern invernali, non specificatamente natalizi. Infatti, il Natale elegante, gli schemi dedicati alla notte di Natale, tipo angeli, presepi, cose dedicate alla notte di Natale appunto. Come sono infacciata. È bello perché io voglio fare la serie, no? Quando faccio i video e poi non ce la faccio. Dopo non ce la faccio. Cerco di essere impostata, ma nada, non mi viene. Comunque questi invece sono quelli più buffi dedicati al Natale. Qua troviamo la Tania, la Tania Fox. Hi Tania, hi Brooke. Poi qua troviamo questo bellissimo Babbo Natale, che non è fatto appunto croce, ma ha perline. Non so se lo vedete, sono tante micro perline cucite assieme che formano il Babbo Natale. Cioè la faccia è un po' inquietante, con tutta onestà. Però obiettivamente... Ma dai, ma anche il piccoletto, anche il giochi sotto sono fatti di perline. E anche il sacchetto di Babbo Natale. Che pazienza ragazzi, che ci vuole fare una cosa del genere. Non ho mai provato a lavorare con le perline. Cioè mi affascina la cosa, soltanto che, boh, non sono così precisa io. Qua troviamo invece... Wow! Questa scatola è bellissima, super elegante, molto molto bella. Ecco, un'altra cosa che mi piacerebbe imparare è il cartonaggio. Sono negata, almeno credo, non l'ho mai provato, ma li adoro. Delle scatole bellissime e anche cose di cartonaggio molto particolari, di falapattù. Molto molto belle. Ma questa è la bambola della Giulia Manfredini. Ma... Ah sì, infatti, eccola qua. Scusate, ma vedo poco anch'io perché sto guardando con la telecamera. Bellissimi. Ah, ma anche la scatola è della Giulia. Sì, Giulia Manfredini. Sveglia Sandy, ho capito adesso che è la pagina dedicata alla Giulia. Ciao Giulia, ciao cara. L'ho capito ora che è la pagina dedicata al tuo. Ah, perché partecipi sicuramente al Needle Art Festival. Wow, che bello. Bellissimo. Ebbè, ma la Giulia è davvero brava. La Giulia Manfredini sicuramente tutti la conoscerete. E fa un punto croce veramente molto elegante, un punto croce da altri tempi. Non è il classico sampler, ma ha creato una sua linea di bambole, decorazioni per la casa, molto raffinate. C'è l'esatto opposto dei miei pattern. Comunque, vabbè. Ciao Giulia. Qua troviamo, come dicevo, il Natale classico. Carinissimo. Il Natale classico troviamo la... Come si chiama questa signora? Janet Bryan Grove. Crafty Cut Design. Bello, anche questo qua con le perline. Molto bello. Vedete? Ha creato una campana con perline e punti particolari. Qua cercherò di schippare quelli che sono logicamente gli schemi, perché giusto così, insomma, si trovano nella rivista. Questa, oh, lei la riconosco, è l'Elizabeth Design, l'Elizabeth Niderwell Design. Lei fa delle cose meravigliose, sfruttando punti particolari, micro, micro schimini veramente meravigliosi, pieni di dettagli. Io li adoro. Avevo fatto suo un... Come si chiama? Un pink hip, se ben ricordo, fatto a specchio, con il charms col coniglietto. Era bellissimo. Adoro questa disegnatrice. Molto, molto brava. Anzi, a fine video magari vi faccio anche vedere quello che intendo che fa. Sono stupende. Veramente, li adoro i suoi ricami. E lei è... Aiuto, mi potevo mettere gli occhiali anche? Ker... Aspetta, scusate che guardo al di fuori della telecamera. Kerish Stitches. Rita Louise Anderson. Ciao, Rita. Bello. Mi piace tanto anche questo. Guardate la particolarità di come ha usato il doppio colore. Carinissimo. Anche questo nastrino mi piace tanto. Che sembra tipo il pelosetto. Che carino. Qua troviamo una classica casa di Natale che mi piacciono da mattino. Non so perché se io vedo una casa, anche le più normali, le più banali, diciamo, mi piacciono tantissimo. Anche quei cardinali sopra. Questo è l'anno dei cardinali. Tra parentesi, tra poco uscirà il mio schema quello quei cardinali. Che l'ho già presentato a fili senza tempo, però insomma. E lei chi è? Historic Handworks. Da Deborah Fasano. Sicuramente origini italiani, eh? La Deborah Fasano. Ciao, Deborah. Che carino, amore. Che cucciola. Poi chi c'è? A pagina 16 troviamo... Knotted Tree Needleart. Jamie Kyle. Hi, Jamie. Che bello! Eh, a me piacciono gli schimmini con i dettaglietti piccoli. Cara, quanto è bello. Qua invece a pagina 17 abbiamo la Roz Water Nemo. Water Nemo. Roz Water Nemo Design. E anche lei con dei punti particolari, tipo l'Elisabeth Design. Mi piace. Però poi farò anch'io un pattern con dei punti così un po' diversi dal solito. Mi piacciono un sacco. E lei chi è? La Ursula Michael Design. Ciao, Ursula. Anche lei con tutto il punto scritto. Vedete? Falala, Merry Christmas. Peace, love, joy. Bello! Che carino che è il dettaglio della pallina rossa sopra ogni lettera. Ha usato un font molto divertente, molto simpatico. Ecco, io l'avrei messo tra l'ultima pagina dove ci sono gli schemi allegri. Cioè, è proprio simpatico questo. E qua abbiamo la Rovaris. Ciao, Rovaris. Ciao, Olivia. Abbiamo la Olivia. Con Joy. Con tanto di fatina. Ucciolino e pacchetto regalo. Poteva non piacermi una cosa con una fatina. Ciao, ragazzi. Adoro. Adoro. E lei? Lei, Sampler Girl. Fantastica. Lei fa tutti gli schemi dedicati a Jane Austen. Io suo avevo fatto, anche qua vi farò vedere magari una fotografia a fine video se riesco. Avevo fatto di questa disegnatrice una bellissima calzetta di Natale. Che la tengo sempre esposta, dire il vero. Perché penso che sia lo schema più grande che io abbia mai ricamato. E con tanto di orgoglio la mostro tutto l'anno. Fregando ben altamente del fatto che sia o meno Natale. Comunque adoro. È bellissima. Bellissima. Hi, Tania. Noelle. Abbiamo la JBV Design con Judy Whitman. Hi, Judy. Con... Bell... No, vabbè, ma notate la particolarità che ha fatto la coroncina identica nel ricamo. Che bella. Che bella famiglia poi. Mi piace l'idea che non si sia proposta con una foto unica, ma di se stessa, volevo dire, ma della sua famiglia. Che cosa bella. Qua abbiamo... La J. La J. Ma c'è due volte lei. Infatti, io me l'ho già vista. Io l'ho già vista. E questa volta si propone con una campana molto, molto bella. Guardate che belli i punti diversi che ha utilizzato. Le sfumature del verde e del rosso. E anche nel contorno che ha fatto questo cordino stupendo. Molto bello. Qui abbiamo il Christmas dedicato al country. Ecco, che mi fa già allegria solo a vederlo. Bellissimo. Lei è Lucy Eaton. Lucy Eaton Crostitch. Con la renna rossa. In mezzo a questo bianco dell'albero. E le palline. Molto bello. Molto classico. Ma molto bello. Mi piace tanto. Wow. Questo mi piace un sacco. La Belinda. Curls. Nice. Nice. Blue Ribbon Design. Che bel viso sorridente. Meraviglioso. Veramente stupendo. Guardate che belle. Le rennine. Tutti i vari tipi di pini, diabeti. Mi piace. Come dicevo prima. Io vedo qualcosa di piccolo. Con tanti piccoli dettaglietti. Mi fanno impazzire. È stupendo. Mi piace tanto. Poi devo capire come fanno a fare questi cordini qua allacciati così a vortice. Mi piacciono un sacco. Abbiamo ancora loro qui. Abbiamo la Lucy. Con la renna in mezzo alla foresta di... Come si chiamano questi alberi che adoro con quelli con le reghette nere. E non mi viene in mente. Tra qualche ora mi verrà in mente e ve lo dirò. Anzi ve lo scriverò qua sotto. Come si chiamano questi alberi che adoro. Belli, belli, belli. È stupendo. Abbiamo ancora la... La Belinda con... Che meraviglia anche questo. No vabbè, guardate i cardinali piccolissimi che tengono la pallina di Natale là dopo. Che meraviglia. Bello, bello. Qua abbiamo invece la Wendy. Pitros, Pitros, Peatros, Pitros. From the Heart. Bellissimo. Guardate che meraviglia. Sto vedendo ultimamente tantissimi di questi... Panettoncini. Come li chiamate voi? Tamburi, panettoni. Che forme hanno? Ditemelo voi. Sarà o no bellissimo? È meraviglioso. Anche questo mi piacerebbe fare uno schema con questa forma. Anche perché vedo che sta andando un sacco di moda. Io mi ostino sempre a non seguire le mode. Ma poi sbaglio perché vedo che non... Alla gente piace. Alla gente piace far riproporre la stessa cosa con tanti soggetti diversi. Ecco, per cui volevo farne uno anch'io. Che ne dite? Molto caruccio. Qua abbiamo la Laura. Ciao Laura. La Laura per me è la Laura, però è la Little Stitcher, da Little Stitcher. Con anche lei cardinali. Questa adorabile casetta degli uccellini innevata. Le medagli... Come si chiamano le... Le campanelle rosse. È proprio nel suo stile. Lei piacciono questi cuscinetti piccolini, piccolini. Con i fiocchetti, le campanelle, i bottoncini. Molto delicati. Molto, molto delicati. È adorabile. Dà immediatamente un'idea di calore di casa. Molto bello. Ciao Laura. È bella. E qua abbiamo anche la nostra stupenda Maria Teresa Vitali. Ciao Stella. Ciao Mary. È lei la MTV Design. Ragazzi, è conosciutissima. Sicuramente sapete perfettamente chi è la Maria Teresa. Tra l'altro era davanti a me a fili senza tempo. È sempre così. Sorridente. Ed era con la Giulia Brugnialti. La ragazza di cui vi ho parlato nel precedente video. Che mi ha regalato la stella di Natale. Che carina. Guardate che bello schema. Merry Christmas. Quest'anno i cardinali ovunque. I cardinali in ogni dove abbiamo fatto. E' bello che poi noi non ci... Cioè, logicamente, nessuna disegnatrice si mette d'accordo con la propria collega, diciamo, per creare pattern simili. Però obiettivamente si va a ondate di moda e non si sa il perché. Quest'anno tutti abbiamo fatti i cardinali. Vogliamo i cardinali anche in Italia, ragazzi? Li vogliamo. A proposito, in America io credo che siano soltanto nei paesi più freddi. O sbaglio. Comunque, bellissimo. Qua abbiamo... Scusate, guardo fuori dalla telecamera perché non vedo niente. La Giulia Lucas. Hi Giulia. Bello! Come si chiamano queste case? Le barn? Meraviglia. Notare il dettaglio anche dei piccoli mattoncini più chiari. Quel cancello, quel pergolato rosso. Quest'anno è tutto rosso per me. Se avete visto il precedente video capirete cosa intendo. E per fare questo video mi sono messa anche ieri sera lo smalto rosso. che ho già sbeccato abbondantemente sulle punte perché io metto lo smalto, poi vado a letto e questo si stampa, si imprime sopra il cuscino. Qua abbiamo invece la Nancy Greenberg, la Pickle Barrel Design. Mamma mia che occhi bellissimi! Che occhi stupendi che ha questa signora. Nancy, you have a beautiful eyes. Beautiful. Wow! Bellissima questi occhioni blu. Che bello! Vabbè, dai, il pick up che trasporta la bette di Natale con Mary Grace. No, vabbè, questo qua è stupendo! Ma quanto è bello! Ha anche il piccolo volantino. Il personcino dentro che guida. Questo lo rifaccio. Stupido. Questo qua piace un sacco mio figlio, sono sicura. Bello, bello, bello. Quante volte sto dicendo bello? È bello, è bello. Old Colonial Design di Pam Reed. Hi Pam! Wow! Anche lei ha scelto dei punti un po' originali, un po' particolari. Che creano, vedete, questi piccoli triangolini. Tanti piccoli triangolini che formano la bette. Che carino! Poi qua invece abbiamo Misty Hill Studio di Olly De Vivo. Anche Olly De Vivo, De Vivo, sei italiana anche tu di origini. Hi Olly! Che caro! Un cucciolo lui! È Bambi! Bellissimo! Ha fatto una tag. Cioè, notate che bello? La tag che riprende lo scozzese della base del Pink Heap, il nastrino, con questo stupendo Bambi. Bellissimo! Che dolce! Poi a pagina 38 troviamo la Christy Smith. Hi Christy! Eh, ecco, vedete cosa intendo con tagli particolari. Lei addirittura ha fatto degli intagli, non soltanto dei punti particolari. È meraviglioso, meraviglioso. C'è Victoria Sampler che fa questo genere di intagli che vedo da una vita e prima o poi ho detto, prima o poi farò qualcosa di questo genere di schemi. Però non sono brava poi nella realizzazione, ho paura di far partire i punti. Boh, non sono così in gamba, io farò queste cose particolari. Molto, molto bello però. Lei è invece... Caroline Sildon di Swalik Stitcher. No, vabbè, ma cos'è? No, vabbè, ma è troppo buffo! Cioè, vedete? C'è l'albero che si sta piegando perché c'è il bue, la pecorella, il gattino che deve mettere la stella cometa sopra l'alberello di Natale che lo piega tutto. Eh, queste cose qua a me fanno divertire, mi piacciono un sacco. Se vedo degli schemi spiritosi, anche lei cardinale. E c'è il ritorno del cardinale. Raffaella, lo so, eh, lo so. C'è il ritorno del cardinale. Quest'anno è il nostro anno del cardinale. È troppo simpatico. A me piacciono da matti gli schemi buffi. Ciao ragazze! Si era scaricata la telecamera e nel frattempo l'ho vuotata. Sono tornata e sono andata a prendere anche Albi. Anche stavolta c'è metà video con me, metà video con Albi. E visto che gli ho sottratto lo spazio in camera sua, ci terrà compagnia. Bando alle ciance, eravamo arrivate a Winter Wonderland. E volevo appunto farvi vedere la sezione dedicata all'inverno, una stagione fredda. Iniziamo con Daniel Vannoy, che ha fatto questo bellissimo alberello. Notate che non ci sono gli addobbi a punto croce, ma sono direttamente delle piccole perline applicate. Davvero delizioso. Poi c'è Pam Lewis and Susan Rom, con un adorabile snowflake. Tanti piccoli snowflake che compongono un pupazzo di neve. Uno snowman appunto. È bellissima la passamaneria, tipo effetto ghiacciato, molto frosty. Bello, bello, bello. Nella pagina 46 abbiamo Sheila Kelly con il barn, con la tipica casa appunto rossa, che è il mio sogno. Quanto vorrei averne una. O semplicemente andarci in veleggiatura, almeno per qualche giorno. Vabbè, accontentiamoci di avere la casa mattoncini color salmone. Vabbè, fa lo stesso. Comunque Pam e Susan hanno fatto anche questo meraviglioso pinkie prettangolare. Che notare quanto sono carini, piccoli pupazzi di neve con... Come si chiamano albi queste cose qua? I paro orecchie. I paro orecchie, paro orecchie. Eccolo qua, saranno belli. E guardate anche questo qua con il cappellino con la visiera laterale. C'è troppo buffo, fortissimo. Poi, poi, poi. Meraviglioso questo lino color jeans. Lei è sempre Daniel Van Noy. Meraviglioso il fatto che ci sia questo effetto vento che sposta la slit del pupazzo di neve. Con let it snow, let it snow, let it snow. C'è qui la belle. Vabbè, più o meno ci siamo. Qui abbiamo un croce la Kelly con un'altra meravigliosa casetta in mezzo alla neve. Wow! Li vedo sempre su casa cenina, gli schemi di questa disegnatrice. E sono questi snowman molto pacioccosi, con questo nasone bello grosso, che più che una carota assomiglia a un pomodoro. Sono adorabili perché, di certo, vabbè, un pupazzo di neve tutto ti fa venire in mente tranne il caldo. Però, giustamente, sono fatti di ghiaccio, comunque di neve. E, non lo so, scaldano il cuore, sono così tenere, ti viene voglia di abbracciarli. Guardate che bel muso, che sorriso. E lei gli disegna questi pupazzi in diverse attività, oppure con diversi pupazzi di neve nello stesso schema. E hanno tutti questo musotto simpaticissimo. Lei è Caroline Manning. Comunque li trovate su casa cenina i suoi pattern. Mi piacciono tantissimo, mi danno allegria. Meraviglioso questo, quest'ornament, notare il disegno, che sembrano quelli dei maglioncini invernali fatti a maglia con la tecnica del ferraile. Meravigliosi. Lei è Susan Richard, di Snowflake Stitchery. Poi abbiamo Medina Original, di Linda Medina. Ecco qua, questo compu pazzo di neve, ad esempio, che ha uno sguardo tenero un po' malinconico. È tenerissimo. Cioè, guardate la differenza tra questo, che è super happy, e questo invece che è così tenero e delicato, che ti viene voglia proprio ad abbracciarlo per dire, no, amore, dimmi tutto ciò che non va. Allora, è quello che fa adesso. Allo coccoli? Che tenero che sei, amore. Poi abbiamo la Legacy Design, con questo meraviglioso, e ta-da-da-da, torna ancora il cardinale. Raffi, Raffaella, quest'anno è il nostro anno col cardinale. Abbiamo lanciato questa mania. È l'anno del cardinale. E questo sarà da fare, perché c'è sia Voodoo che il cardinale. Merry Christmas 2018. C-c-c-c-c-c-c-c- 2018. Bellissimo. Wow! Questo mi ricorda così proprio, tac-tac, molto smart. Il mio link mentale con, come si chiama il film, quello che mi piace a me di Natale, Mamma ha perso l'aereo. Mi ricordano queste città, ecco, cosa mi dice questo schema? Immediatamente io penso alla sera della vigilia di Natale a New York, con tutte queste case illuminate verso sera, e tutte queste macchine che vanno, che sfrecciano per andare a fare gli ultimi acquisti della vigilia di Natale. Cioè, vabbè. Perché quando nella vigilia... Non lo so, Albi, nella testa di tua mamma girano queste cose qua, questo qua e mamma ha perso l'aereo, secondo me. Ma nella vigilia di Natale si può proprio fare la spesa? Sì che si può fare la spesa, sono le ultime spese, vuoi quelle della cena, gli ultimi regali. E mi emoziona questo schema, mi emoziona un sacco, veramente molto bello. Poi guardate quanti piccoli dettaglietti, cari. E questo si chiama, cioè il design di Cheryl Granda del brand Glendon Place. Molto bello, mi piace un sacco. Qui entriamo nella sezione Christmas Elegant, con sempre la nostra Elisabeth Design, che notare che meraviglia, questo tipo franco bollo con dei piccoli dettagli, tipo delle bacche e delle foglie fatte col punto scritto. Meraviglioso. Kimberly Taitree, non so bene come si pronunci. Questa ragazza ha fatto un violoncello meraviglioso, molto elegante, davvero veramente raffinato. Mi fa piangere di gioia. Mi fa piangere di gioia. In uno schema così piccolo è riuscita a fare un violoncello pieno di dettagli, di colori. Poi abbiamo questa fantastica ghianda, notare che il cappuccio della ghianda è fatto con tante piccole ghiandine, gli scoiattoli, la stella di Natale e i pungi topo. E lei è Catherine Bar Liu, di KBB Craft & Stitches. Abbiamo ancora lei, la KST, la Kimberly, con stavolta, wow, meraviglioso, un trombone pieno di dettagli. Guardate quanto è bello. È il bassettuba. È fatto benissimo. Cos'è questo bassettuba? È quello. Non lo so, continua a dire che si chiama bassettuba questo strumento, non capisco come mai. Comunque, la KBB ha realizzato anche questa meravigliosa pera, con appunto le pere, e ritorna, il ritorno del cardinale ovunque ragazzi. Me lo farò come tatuaggio sto cardinale ormai. Poi abbiamo le stelle di Natale, il pungitopo, le perine, molto bello. Ma non sono il pungitopo? Questi fogli qua si chiamano pungitopo in italiano. E Black Work Journey di Liz Elmond ha fatto questo meraviglioso, classico ornament, però non è punto croce. Sono tante regline di punto scritto che compongono questa figura geometrica. Questo genere di ornament mi piace molto anche da attaccare tipo agli armadi, alle chiavi, alle porte. Come questo? Anche questo, infatti sono della stessa famiglia, diciamo. Anche questo è un disegno classico che non stufa mai. Molto bello, anche da regalare tipo a una mamma, una nonna. In una casa classica ci stanno particolarmente bene. Lo facciamo per la nonna Franci? Che nonna Franci? Per la nonna Francesca, questo qua? Secondo me ci sta molto bene, che dici? Sì. Bene. E lei è Karen Kluba di Rosewood Manor. Meravigliosa. Qua c'è questo cucciolo, che carino, che è questo bimbo. Patricia Van, intanto Albi sta giocando. Patricia N. Design, meraviglioso il cuccioletto, e meraviglioso il suo schema con Merry Christmas to you. Guardate quanto è bella la forma di questo pattern, di questo schema, scusate. Cos'è questo dito alzato? Ti piace? Sì. Questa è una bellissima pallotta da attaccare all'albero, con tanto di pavone e foglioline, con questo colore mosto, molto bello, e questa signora con i capelli in pandan, con lo schema meravigliosi, di Stitches, Stitches Fish Design. Molto bello. Se lo vede la red, questa signora qua diventa il suo mito, è red, cosa ne dice? E qua è Albi. Bello! Bello è questo, mi piace un sacco, è quello della Giulia Manfredini, Albi, via, con quel bagaglio lì. Ma si può dare che continua a giochicchiare con quell'arnese sul cellulare. Ehi, che arnese? Quell'arnese lì, gliel'ha fatto vedere a suo cugino, adesso è la fine. Comunque, ciao Giovanni, se adesso sta giocando a questo videogame, è colpa tua, sappilo. E qua abbiamo ancora la Giulia Punti Antichi, con questo meraviglioso bustino molto raffinato, elegante, con questa piccola greca al bottoncino, e tanto di passano maneria che crea questo effetto volante nella gonna. La Giulia fa sempre cose molto eleganti. Qui abbiamo un, e perché bel nome, Living on the Rainbow, veramente bellissimo nome per questo brand, con il tamburello simpaticissimo da regalare anche un bimbo con il blu e il rosso, e le bacchettine per per suonare il tamburo. Che carino. Wow, e qua cosa c'è? Oh, Holy Night. Il tuo! Il mio, quello dedicato, eccolo qua, quello dedicato alla notte di Natale. E me l'hanno già rispedito, cioè questo pattern qua ha viaggiato più di me nella vita, praticamente. È già tornato, è andato dall'America, come vedete me l'hanno anche siglato. E sono appunto, come dicevo, quelli dedicati alla notte di Natale. Faccia la svelta perché ho paura di non starci con la batteria. E qui abbiamo la Kissy Bailey Smith, con questi meravigliosi alpaca. Guardate che nasone che spunta in mezzo ai riccioloni. Allora dove sarebbero io? Sono nascosti nel pelo Silent Night, Holy Night. Questo qua è carinissimo, l'idea di regalarla a una Knitter, col fatto che ci siano di alpaca. Molto bello. Qui c'è, oh mamma mia, non riesco a pronunciare questa cosa qua, però si chiama Gunai Uyan, penso che si pronunci giusto così. Con un addobbo dei colori tipici del mare, per cui è molto carino l'idea se uno abita al mare o vuole fare un addobbo sul blu. Mi piace un sacco, così. Qua abbiamo Albi, chi è lui? Chi è? Gesù Bambino, con Hope, Love, Peace, Joy, meraviglia, di Teresa and Brian, di Needle Bling Design. È adorabile, che carino, guardate con la paglia, amore, che faccino che ha. E qua abbiamo la Nikki, ciao Nicoletta, la Nicoletta Fair Auto con Nikki Creation. Guardate quanto è bello, meraviglioso, sembra quasi una piccola borsettina con il manico, con tutti i bottoncini vintage, la pecorella, il cuore, Noelle. Lei fa sempre delle cose piccolissime e piene di dettagli meravigliosi, molto raffinata sempre la Nikki. Qui abbiamo questa designer giovanissima, cioè praticamente una teenager, Albi Molla, che è My Big Tour Design. Lei si chiama Deborah Woods e ha fatto questo schema, veramente molto classico, bellissimo, mi piace un sacco, molto bello. Specialmente la palette colori mi piace tantissimo. Poi Nancy Wyler, guardate quanto è bella questa tag, è meraviglioso, anche da attaccare tipo chiudipacco per i regali più preziosi di Natale, con il pastore, le pecorelle, la stellina, è delizioso, veramente. Poi abbiamo Tapestry Design con Rachel Samek, con questa meravigliosa borsettina, con l'angioletto che suona. E qui chi abbiamo, Albi? Yeah, chi è? La Cassandra. La Cassandra. La Mami, la Fairy Revolent in the Wood, eccolo qua, con, 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 con voody, con voodoo, amore. Niente, lui è troppo distratto da questo benedetto giochino che non tollero più ormai, tra un po' glielo cancellerò. Che poi tra l'altro, io sono contro videogame, glielo lascio vedere soltanto adesso perché sto facendo il video, così non ci distrai, facciamo prima noi. E tra un po' quando lo cancellerà io, io me lo scaricherò. Me lo scaricherò, con questa voce qua, e comunque sì, dov'è? Eccolo qua, lo potete vedere anche versione dal vivo, con tanto di campanella arroginita. Ma perché è arroginita? E perché è stata fatta apposta così, con 2018, Gesù Bambino nella sua cestina. Culla. Nella sua culla, va bene, con Maria, Giuseppe e la Stella. E la Stella. Ma il bue e l'asino? Il bue e l'asino niente, abbiamo fatto senza bue e l'asino, però abbiamo il coniglio e la tipa sotto che fa la guaiora. Notare anche che mi ero photoshoppata le sopracciglia, cioè, no, non le sopracciglia, le ciglia avevo fatto con un, come si chiamano, quelle app di trucco, mi ero messa le ciglia con il mascara, perché non mi ero neanche truccata, dio che indecenza, signora. Qui abbiamo la Hot House Petunia. Petunia. Yes, guardate quanto è bello, quest'angelo con l'albero e tutte queste bacche innevate, scusate se vado veloce, ma ho una paura tremenda che mi si scarichi ancora, o holly jolly, holly jolly, no, holly day, holly jolly da holly day. Questi sono quelli più buffi dedicati al Natale e abbiamo, wow, questi qua sono bellissimi perché sono anche tridimensionali, se vede, sono un po' cicciottosi. C'è appunto il gingerbread, il pupazzo e l'albero con charlotte web needlework. Sono adorabili fatti così. Questo che è la pucciosità fatta a Pinkyip, questo qua sarebbe carinissimo da regalare a una bimba, guardate quanto è veramente tenerissimo. E loro sono dei Frosted Pumpkin Stitchery. È adorabile, mi ricordo un pochino tipo i disegni giapponesi, quelli che a me piacciono tanto sugli adesivi, stupendi. Poi abbiamo questa signora, chi è? Eilin Gurac. Guardate quanto è bello, lei mi ricorda tantissimo questa signora, la moglie di Pippo Baudo. Adesso non ricordo il nome, ci assomiglia tanto, è vero? Molto ci assomiglia, che bel viso. Ma chi è Pippo Baudo? È un presentatore della televisione italiana. E questo qua è una calzettina di Natale, guardate quanto è bella. Che meraviglia. Che nome strano Pippo Baudo. Oh, è il suo nome, Albi. Non ci posso fare niente, probabilmente sarà Filippo e non Pippo, comunque vabbè. E Kesslings di Linda Kessche, che ha fatto questo, adorabile, cioè praticamente c'è scritto Merry Christmas, il cappellino dell'elfo con, belle, le scarpine dell'elfo col pom pom. Ma è meraviglioso, i tuoi sono piccoli cristalli, che forte. Poi abbiamo Maria Waramache di Stitcherwood. Ha battuto il record, momento di gioia di mio figlio. Bravissimo. Siamo tutti molto felici, immagino che le signore che recano sono molto felici di saperlo. Poi Better Not Put, che è la... Si è riscaricata di nuovo, ragazzi. Niente, è troppo vecchia la macchina fotografica e le batterie non vanno. Comunque vi stavo dicendo, probabilmente, di questo bellissimo schema con questi cambi di colore sulla parola not, con le campanelle. È di Stitcherwood, questo schema, mi piace un sacco. Mi dispiace che si fanno continuamente dei salti, ma questo video va così, ragazze. Troverò una seconda macchina fotografica. Poi c'è questo angioletto, anche questo da regalare a una bambina, è veramente graziosissimo. Di Linda, di Andesign, di Linda Harris. Poi, oh, questo è fantastico, questo qua ha una tag meravigliosa. Meravigliosa, Eva Olly Jolly Christmas. Sarà carino, è meraviglioso. Notare che sono tanti piccoli campanellini che formano le bacche dell'agrifoglio. E loro sono Pat & Peggy, carinissime. Fern Ridge Collection. Mi piace tantissimo questo qua. Quest'anno vorrei fare delle tag da regalare alle amiche coi pacchettini. Questo qua è adorabile, anche lui. Brooke, Brooke's Book. E credo che, scusate che guardo fuori. Ecco qua. No, no, è punto croce, sembrano perline, ma è punto croce. Invece ci sono delle perline qua. Anzi, no, sono tutte perline, ragazze. Ma è bellissimo, sono tutte micro perline. Cioè, quanta pazienza serve a fare una cosa del genere. Guardate il micetto con tanto di fiocchino. Che muso che ha, è bellissimo. Bellissimo, veramente. Qua ci sono tutte le spiegazioni anche su come applicare tutte le perline. Bellissimo. Wow, che bello. Anche con il recamo, con i punti classici del recamo. Molto particolare. E Molly Beals. È meraviglioso. Guardate, beh, no, non guardate perché non devo farlo vedere. Comunque sono stupendi. Tanti punti particolari per realizzare questo meraviglioso alberello di Natale. Stupendo. Questo qua piacerà a te, Albi. È che uguale a Cucush, versione verde. È meraviglioso. Dragon Dream di Jennifer Eichmann e Smith. È bellissimo. Cioè, notare? Hai. È uguale. E come ti permette di toccare la Cucush? È molto prezioso. È molto prezioso. Rifai il ditino del molto prezioso? E questo qua, amore, questo qua te lo devo fare, dai. È che sembra Cucush. Te lo recamo. È che è una meraviglia. E qui abbiamo New York Dreamer di Nidero, di Aezia. Scusate che non vedo da qua. Aezia Gladstone. Bellissimo. Che bello. La casetta Santa Workshop. Oddio, ma è meraviglioso. Che carino. La piccola letterina mail. Con il burattino. No, vabbè, ma è stupendo. Guarda che bello la casetta. Mi piace un sacco. Adesso vi do un po'. Ah, e qui, nell'ultimo, di solito non c'è questa cosa nelle ultime pagine. Però per la rivista dedicata agli ornament di Natale, tutti noi designer hanno chiesto di creare qualcosa che sia un racconto di Natale oppure una ricetta. Io, ad esempio, ho fatto la ricetta del... come si chiamano delle scorzette di arancia albi con quel bagaglio di via di qua. Che non si vede niente, che vuole propinare il giochino e il videogame anche a voi. No, ma io... E... ma io cosa? Ma io... ma io sto facendo un video. Ah, stai facendo un video anche tu? Sì. Il video nel video? Sì. E cosa stai facendo vedere? Secondo te? Anche tu la rivista? Sì. Bravo. E io stavo dicendo che ho fatto la ricetta, quella delle scorzette di arancio e cioccolato. Per cui a breve vi farò anche il video delle scorzette di arancio e cioccolato, che sono adorabili e buonissime. Una ricetta davvero shue shue, facile facile e magari anche a voi piacerà riproporla. Molto... un profumo lascia nell'aria veramente tipico del Natale. Almeno io lo socio a Natale. Ecco qua, qua ci sono tante ricettine oppure racconti del Natale e adesso me le devo fotografare e ricontrollare tutte con il traduttore perché tantissime parole inglesi io non le conosco, specialmente per quello che riguarda le ricette. E così ragazze, abbiamo finito la rivista. Qua ci sono le pubblicità dei vari negozi. La rivista tutte le volte, per tutti i mesi, ripropone le spiegazioni dei punti per come realizzare ogni nostro progetto. Ragazze, io vi ringrazio tantissimo, è stato un parto questo video. Lo so che ho fatto diversi tagli, mi perdonerete sicuramente. Come dicevo all'inizio, credo di averlo detto, non è un video particolarmente girato bene, neanche con costruzioni originali. È semplicemente due chiacchiere in compagnia. E come sicuramente avrò detto già anche nello scorso video, io adoro i video chiacchiericci. Mi tengono tanta compagnia e mi fanno così sentire tra amiche, anche se siamo a distanza ed è tutto virtuale. Ciao! Saluto anche tu. Ciao! Il mio topolino. Ciao! Ciao! Ragazze, un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Non so cosa sarà il prossimo, ma sicuramente prima di Natale uscirà anche quello delle scorzette di arancio. Candite! Un bacione grande da tutte e due e anche da Cuckouche. Ehi, è prezioso! Ragazze, questa è la calza di cui vi parlavo, della The Sampler Girl. Faccio prima farvela vedere in un video piuttosto che una fotografia perché è troppo lunga e non so come inquadrarla tutta. La disegnatrice aveva fatto questa calza con dei colori molto girly, molto azzurro, verde acqua e, non lo so, un rosa big bubble. E, vabbè, come sapete a me questo genere di colori non piace e di conseguenza l'ho cambiata io, rendendola leggermente più cupa. Ora vi faccio vedere, aspettate che provo a mostrarvela intera, ma... Ecco qua, praticamente un braccio che è di due chilometri, ragazzi, per fare questa cosa qui. Aspettate che vi faccio vedere come ho fatto il dietro. Il retro del lavoro è così, con... Ho usato la stessa passamaneria a color tipo dorato. E' una stoffina americana molto morbida, scozzese. Ecco qua. Anche l'interno l'ho tutta foderata bene, tutta bella imbottita. E' molto sofficiosa. E come vi dicevo nel video, visto che è la cosa più grande che abbia mai fatto in vita mia, è appesa tutto l'anno qua in sala. Ora vi faccio vedere quello dell'Elisabeth Design. Ragazza, eccolo. Questo qua è quello di cui vi parlavo dell'Elisabeth Design Spring in the Garden. Guardate che ci sono tanti punti particolari. Punto scritto che forma questa greca, un po' geometrica, con il colindietto, che anche in tempi non sospetti erano una super fan dei conigli. E quando l'avevo creata, era una roba tipo più di dieci anni fa, avevo fatto questo specchietto da borsetta. Solo che avevo paura che si potesse rovinare il lino, per cui non l'ho più inserito dentro la borsa, ma lo tengo soltanto di bellezza qua, così. Dentro la vetrinetta. Vedete? Ragazzi, tra poco Nesh vi riuscirà quello nuovo. La fine della trilogia delle sirene. Prima c'è stata la sirena single, ora la sirena, quella che trovate adesso nei negozi, questa qua la sirena innamorata. E poi, tra pochi mesi, anzi a marzo, sì a marzo Neshville, si è rappresentato quello di... la fine della trilogia. Chissà come andrà a finire la storia dei due innamorati. Ragazzi, adesso vi saluto per davvero. Ecco qua, vi faccio vedere intanto un altro che è Happy Easter. La mia collezione di cose di Patrick Spotter. Cauli Flower. Lo so che non si dice dei propri schemi, ma questo l'adoro proprio. È tenerissimo, secondo me. E anche qui uscirà qualcosa tema gnomo e magica foresta, sempre a Neshville. Ho fatto qualche spoiler, non dovevo forse. Vabbè, dai. Anche questo qui, questo qui era piaciuto tanto, era andato sulla rivista Just Cross Stitch dell'anno scorso. Era... Dunque, era... Ottobre-Novembre. Ottobre-Novembre, credo. Novembre-Dicembre. Adesso non ricordo bene del Just Cross Stitch. Ciao. Questo cesto qua è veramente vintage. Era di mia suocera, lo voleva buttare via. E io, ma stiamo scherzando? Cioè, vogliamo buttare qualcosa di vecchio e di rotto? No, lo tengo io, ragazzi. Non esiste. Ragassuole, vi mando un bacio grande. Stavolta mi saluto davvero. Come sapete, io la tengo lunghissima. Ma a me piace ci cerrare tanto. Un bacione gigante e ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.